Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi abbiamo un ospite super speciale, il mio fidanzato Fabio. Ciao a tutti! Per lui è la prima volta sul canale, quindi ovviamente deve essere un video memorabile e oggi ho deciso, anzi abbiamo deciso, di aderire alla challenge Trucca al mio fidanzato, questo povero ragazzo qua che si è coraggiosamente lanciato su questo video. Senza scelta. Senza scelta ovviamente, quindi vi auguriamo buona visione e iniziamo subito il make-up di Fabio. Allora iniziamo dalla base ovviamente e mettiamo un bel fondotinta. Ma perché negli occhi? Aia! Perché deve essere uniforme il colorito? Si stai spaccando la faccia! Ma no Fabio! Che ne stai profittando! Io no, aia! Ma quello che chiuso è aperti? 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 Aia! Ma non è scema! A fa, a fa, a fa, a Fabio! Dai aperti, devo farti gli occhiai! Si ma non dentro l'occhio! Porta su! Ok il fondotinta l'abbiamo messo che fa abbastanza pena! Si fa schifo! Ovviamente diamo un po' di colore a questo colorito da Ciccio! Allora, andiamo in aiuto con Mac, vediamo se fa dei miracoli! No, sulla fronte perché sfina! Allora, adesso devi fare la bocca a pesciolino! Fabio, fai la bocca a pesciolino, è così! Dai! 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 Ok, perfetto! Come il bellino! Così valorizziamo un po' lo zigomo! Sfiniamo un po' il naso che Fabio ce l'ha un po' a patata! Ok, perfetto! Si, bellissimo! Ok, guardati un po'! Come prima! Per adesso non è cambiato tanto! Il trucco vogliamo fare oggi? Non lo so! C'è lì un colore? Blu! Blu? Blu! Non ce l'ho il blu! Blu! Non ce l'ho il blu attualmente! Blu chiaro! Anzi no, ce l'ho! Vado a prendere una palette! In cui troviamo il nostro blu! Allora, uso il dito per metterti il blu perché... Perché non vuole sprecare un pennello per me! No, perché poi dovrei lavare gli operi non lavati! Allora, cominciamo! Usiamo... Blu! Il deep blu, perfetto! Allora, chiudi l'occhio! Vado, eh! No, no, no! Tieni un aperto! Cioè, aperto o chiuso! No, chiuso! Fai piano! Fabio, fai piano! Non stai a mettere della caglia! Apri! Apri! Bene! Ok! Mettiamo un bel glitter adesso! Chiudi! Ok! E poi usiamo un punto luce! Sono cieco perché... Guardati un po'! Fissavi peggio! Fissavi peggio! Bruci un po'! Dove? Gli occhi! Dove gli occhi? Dentro gli occhi! Negli occhi! Ma non è dato niente! Dentro nelle pupille degli occhi! Allora, aspetta! Mettiamo ancora dei glitter! All'interno qui... Ma quanti glitter metti? Ebbè, senti, se devi essere una bella guajana! Guardati un po'! Apri! Guarda su! Oh, scusi! Guarda su! Qua c'è sporcato! Non devi guardare su! Pensi che mi gratta, cosa faccio? Non lo gratti! L'attacco! Dai, resisti! Bravissimo! Apri su! Guarda su! Ah, ma hai finito di accecarmi! Però se tu continui a prendere e chiudere, è ovvio che ti vado nella pupilla! Ai! Disastro! Allora, visto che Fabio ha delle ciglia, ovviamente, super lunghe, super belle... Bellissime! Diventare cieco, devi stare fermo! Allora, con Fabio andiamo con Chanel! Allora, guarda un punto dritto! Come va? Posso respirare? Sì! Come va? Benissimo! Fabio andiamo a fare così! Dai! Guarda, come ti piaci? Come stai? Una schifezza! No, no, non è vero! Ah, lo sapevo! Perché me l'ho messo dentro? No, no, no! Non fare così! No, non strizzare gli occhi! Ma perché me l'hai messo dentro? Ma non te l'ho messo dentro! Dai! Un po' più lontano, così! E il blush! Cos'è il blush? Il blush è per diventare come Heidi! E questo qui finito? No, è questo qua sul pesca! Sul rosa maiale! Sul pesca! Sul pesca! Allora, sorridi! Allora, sorridi! Un po' meno! Sorridi però! Così, stessi contentissimo! Ok! Ti prometti che mi spacco la faccia? Ti tocca a me! Poi è arrivato il momento... Cos'è il pesca? È arrivato il momento del... Rossetto! Bacio! No, del bacio no! Del rossetto! Sia mai il bacio! Ha le labbra più belle del mondo! Guarda un po'! Ti metto un bel rosso! Allora... Mi raccom... Ah, devo fare... No! Normali! Però un po' sul duro! Così! Non così troppo! Schifato! Così! No! Poco schifato! Normale! Normale così! Che solletico! Ma che è sta roba? Eh, adesso la devo mettere a posto! È tutta storta! Te l'accentuo un po' la lastra! Che molli! Guardati un po'! Bella! Sì, ma... Me l'hai fatto tutta sbilenca, Sara! Eh, lo so! Perché hai detto... Ma che è sta roba? Ma che schifo! Guardami! Eh, allora, la mettiamo dentro, eh! No! Già, questo qui già mi fa male! No, è vero! Invece sì, lo so io! Dai, Mattei! Cosa devo fare? Guardare su! Devo vedere che non la senti neanche! Boh! C'è entrato! Ma deve andare dentro la matita! Ma non la voglio dentro la matita! Già prima ci vedevo poco! Adesso ci vedrei... Adesso ancora meno! Ma almeno sarei elegante! Lascia! Ma come fate di infilarmi le cose negli occhi? Pianjin! Proprio con un accenno di illuminante! E vai! Brilliamo tutti come delle belle pesche luminose! Qualche goccina! Qualche goccina! Una goccina qui! Una qui! Una qui! Posto! No! Allora! E anche sull'arcata della soffacciglia! Lo spalmiamo sul naso! Ma che luminosa! Sei una stella! Una stella bella! Ma che bella! Ma pesca luminosa! Allora, penso che sia stata un po' una mezza tortura! E non capisco perché dovete infilarvi le cose negli occhi! Dentro l'occhio! Ma perché noi vogliamo rimanere belle per voi? Ma voi sbagliate tutto da vita! Lasciate stare questi poveri occhi! Che noi vogliamo qualcos'altro! Come le spalle! Le guance! Le guance! Il naso! Vabbè, basta! Chiudiamo l'argomento! Quindi, questo è il make-up che abbiamo realizzato per Fabio! Ovviamente, adesso andrei a struccarti! Sai come ci si strucca? Certo, lo fai tu! No, assolutamente no! Una donna vera si strucca da sola! Tutti i giorni! Ti sembra una donna vera? Sì! Mi manca qualcos'altro per essere una donna vera! Fabio! I cappelli lunghi! Comunque, ragazzi! Se vi è piaciuto il video, lasciateci un like qua sotto! Iscrivetevi al mio canale! Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti! E... Let's talk about! Ci vediamo al prossimo video e... Let's talk about! Let's talk about!